Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com Amici di Scratch, ben ritrovati. Puntata straordinaria questa, ricchissima di immagini. Infatti faccio soltanto la presentazione al mio amico Gianluca Giardini che fa tanta fatica per venire anche a trovarci. Grazie Gianluca. No, nessuna fatica, è un grande piacere salutare te e chiacchierare un po' che tuoi. Chiacchieriamo in maniera informale. Stai attento, siccome siamo tutti e due con i capelli un po' bianchi e io dovrò smettere di fare questa trasmissione prima o dopo, tu mi dovrai insegnare qualche cantiere per andare a vedere perché qua nella zona me li sono mangiati tutti. Beh sì, da Bologna si chiamano umarel. Umarel. Quelli che con le mani dietro la schiena guardano nella rete. No, ma ti posso dare qualche dritta. Sì, mi piacerebbe anche, non so, creare un blog, sai qualcosa. C'è, c'è, a Bologna c'è. C'è già, c'è il blog dei cantieri virtuali. A Bologna c'è un sito, c'è una pagina Facebook. Umarel è un'istituzione da anni che a Bologna sono gli Umarel che vanno a controllare i cantieri. Ebbene, una volta si parlava di altre cose, caro mio. E d'altronde, l'età avanza e bisogna trovare nuove sensazioni, nuovi stimoli. Ma detto questo stiamo con i piedi per terra. Se non ti dispiace, caro Gianluca, io manderei subitissimo il primo giro, il giro del Belvedere. E poi dopo commentiamo insieme a te, un collaboratore. Grande gara. Grande organizzazione. Vanno i nostri ringraziamenti chi ci mette la faccia e non soltanto in questo momento. Sono bravissimi. Villa di Villa di Cordiniano, se non sbaglio. Esatto. Giro del Belvedere. Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Signore e signori, Villa di Villa. Frazione di Cordiniano. E' un bel gradito ritorno dopo la gara organizzata dal team capitanato da Giampiero Forcolin. Siamo in compagnia di Tina Ruggeri che oggi è al commento. Intanto immagini d'autore. Carattina perché qua vediamo la mano dei grandi professionisti. Team Rodella, Rodella 2000. Insomma, telecamere vere, non quelle finte. E' qualità, tanta qualità. Ed è, secondo me, dopo la pandemia, il rinascimento deve partire da questi. Dalla grande qualità del ciclismo. Assolutamente sì. Abbiamo visto nelle immagini. Soprattutto vogliamo ricordare che lunedì c'è stato un minuto di silenzio in tutte le gare per ricordare Antonio Pagliara, presidente nazionale dei giudici di gara, scomparso improvvisamente appunto durante la settimana di Pasqua e tutti i giudici a livello italiano dovevano portare il lutto al braccio. Un minuto di silenzio è stato osservato e nelle immagini abbiamo visto anche gli organizzatori Gianfranco Carlett e Efrem Chies. Carlett, bisogna fargli assolutamente i complimenti perché a distanza di un anno, dopo aver trascorso purtroppo un mese in ospedale a Vittorio Veneto, uno dei primi ammalati di Covid, ha avuto la forza di far ripartire questa corsa ed è stata un'organizzazione decisamente perfetta. Un trofeo piva che ha preceduto questa gara, cara Tina, c'è da dire che due gare in due giorni i big sono sempre quelli, rischiamo di lasciare indietro tanti altri corridori che o qua si partecipa un giorno sì, un giorno sì e altri non partecipano mai. No, secondo me invece la formula è perfetta perché sono state due giorni di altissimo livello per quanto riguarda il ciclismo under 23, i risultati si sono visti e ovviamente dichiarati sul campo, è stato un weekend di grande ciclismo come poche volte accade perché ricordiamo che solitamente il piva viene organizzato la domenica precedente, di solito la domenica delle palme e in questo caso c'è stata la doppietta, a volte succede, altre volte no, insomma in questo caso la terra trevigiana ci ha regalato un grande weekend di corse. Due giorni, che ha animato subito perché poi il circuito sì con quell'asperità dove cercano di premere la montagna, però vediamo che insomma questa gara la cercano di movimentarla questi due corridori, però per dire insomma non lasciamo, diamogli un po' di vivacità anche perché il gruppo insomma è molto attento a non far uscire nessuno dal gruppo insomma. Ecco, se posso aggiungere, è stata, io ero presente ovviamente sia al piva che al belvedere, è stata quasi la fotocopia della gara, il belvedere della gara del piva, subito pronti via, sono partiti in fuga due atleti, due corridori, in questo caso riconosciamo soprattutto il nostro veneto Riccardo Bobbo che proviene dal vivaio dell'Ormelle e sono stati in fuga, poi ripresi e poi quando si è cominciato a far gara dura il gruppo si è sgranato. E beh, d'altronde qua non ci sta nessuno, qua i big vogliono vincere, intanto vediamo la colpa, ma non soltanto insomma Trevigiani che comincia a mettere anche là il muso davanti, però oggi si è fatta molto più aggressiva la concorrenza, anche qua ci sono delle squadre molto importanti come la Jumbovismo, la Sede Sera, insomma bisogna parlare anche con quelli che hanno un gradino, un dentino superiore. Ecco, allora hai parlato giustamente della Jumbovismo, mi sembra di ricordare che qualcuno dei presenti qui abbia partecipato anche alla Coppie Bartali, per cui insomma sono dei team continental legati a delle squadre World Tour e sono effettivamente il vivaio dei grandi e delle grandi squadre e abbiamo visto certi corridori a livello straniero come hanno controllato la corsa. Abbiamo visto anche Sebastian Van Poppel, questo è un bellissimo corridore, insomma un bel passista, intanto vediamo che qua i lavori sono in casa, vediamo davanti c'è la Jumbovismo, c'era la nazionale tedesca, la Zalf un po' più defilata, la Trevigiani anche un po' defilata, si stanno cercando di capire come vanno in pratica le cose, perché qua insomma le fughe, mi sa che sono fughe soltanto per farsi vedere dalle telecamere, come in questo caso vediamo con il dorsale 165, Santoromita, Villa, Alessandro e insieme a questo quartetto come vediamo anche il vincitore del trofeo Piva, scusami, il vincitore del trofeo Piva che vorrebbe anche fare la doppietta qui oggi al Belvedere, insomma questo quartetto che cerca di andare via di conserva e insomma il gruppo dietro non ci sta. No, dobbiamo dire che c'è stato un grande lavoro della Colpac, hanno corso le squadre essendo Continental ed abituate magari in alcuni casi a correre anche con i professionisti, cominciano a controllare di più la corsa, non è più lo sparpaglio dei dilettanti di qualche anno fa, quando si prendeva si andava così all'arrembaggio, ma le squadre controllano, stanno attente che non vada via la fuga oltre i limiti per poi sferrare l'attacco decisivo sul finale. E' anche un momento per fare bella figura, ci sono poche gare ogni volta è una Coppa del Mondo e poi mettersi con quelli che sono leggermente superiori di categoria è un momento anche da mettersi in vetrina. Sì, assolutamente per mettersi in vetrina o come scherzosamente ha detto qualcuno alla fine della corsa, ricordiamo il simpaticissimo Riccardo Bobbo che è veramente un ragazzo esplosivo per quanto riguarda la simpatia, ha detto sono rientrato alle corse dopo delle cadute, mi sono fatto vedere e intanto mi sono guadagnato anche i soldi dei traguardi volanti che non fa male di questi tempi. E infatti vediamo anche quanto ci tengono al Gran Premio della Montagna insomma, intanto qua vediamo uno, secondo me è abbastanza Yusuf Pasqueira, molto molto pimpante, tira dall'inizio abbiamo visto che è andato non a inseguire in prima persona tutte le fughe però è sempre stato un interprete fino adesso di essere là nelle prime posizioni per non lasciarsi ingannare. Intanto vediamo con il dorsale numero 93 della GEDESER, tanto per dire qualcuno di importante, Pareto e Pientre e Valentine. Ecco, tu hai parlato di Peschera, questo ragazzo appena diciottenne è stato scoperto da Fernandez Macin che è uno dei manager della UAE Team. Il ragazzo è di Barcellona quindi è un catalano, questo ragazzo può essere... sono tosti e lo abbiamo visto per questi due giorni e si era già messo in evidenza, ricordiamolo anche la Coppie Bartali, per cui insomma un ragazzo tosto, questo ragazzone con un fisico quasi da granatiere che mi ricordava per certi aspetti, ne ho parlato anche con Antonio Bevilacqua il team manager della Colpac, mi ricordava per certi aspetti Miguel Indurain, Antonio Bevilacqua lo ha definito quasi una zampata alla Valverde, io invece nel carattere ci ho visto il re di Navarra, Miguel Onn. Ha un diciottenne che pare che sia già un uomo fatto e formato, insomma è impressionante. I compagni di merenda sono Troncon, poi abbiamo Parepa in tre, Roger L'Antoine, questi sono un po' quelli che stanno facendo la gara nella parte diciamo più viva, più importante, perché qua siamo già nelle fasi quasi conclusive e vediamo che gli interpreti sono questi qua. Ecco sì qua siamo sulle salite, chiamiamole genericamente montaner, però c'è il canalette, sono degli strappi impossibili dove nel corso degli anni, seguendo le corse ho visto dei corridori letteralmente piantarsi e portare avanti la bicicletta a piedi perché sono veramente degli strappi impossibili, poi qui c'è una discesa anche particolarmente tecnica, in alcuni tratti anche pericolosa, però qui abbiamo visto i ragazzi che guidano la bicicletta con una capacità davvero incredibile e unica e poi è stato bravo Peschera a riuscire a mantenere un vantaggio, seppur risicato, ma che gli ha permesso di lanciarsi verso la vittoria finale. Qua vediamo Quartucci che cerca di staccarsi dal gruppo, vediamo se lo andranno a raggiungere, chi lo andrà a raggiungere e soprattutto sono curiosi di vedere chi andrà a tirare, ma forse sarà una sorpresa. Caratina, questo è un percorso, abbiamo detto, molto tecnico, bisogna stare molto attento nei circuiti, intanto bella la manovra di Quartucci Lorenzo, il quale cerca di dire, vabbè, qua nessuno di dietro fa niente, io voglio andarmela a giocare e cerca di rintuzzare e speriamo con successo i fuggitivi, tra cui il catalano come dicevi te e quindi bella questa azione, nelle retrovie vediamo se qualcuno ci sta o non ci sta, però qualche cosa dovrà pur succedere. Ecco, Lorenzo Quartucci ha tentato l'assolo, era già vincitore lo scorso anno in una gara nella zona del Monferrato, è una classe 99, il ragazzo è un perugino, quindi tenta di regalare l'ennesima vittoria al trofeo Belvedere della Zalfa Euromobile Fior, però Peschera era troppo potente. Lo vedremo alla fine di questa gara, Caratina, intanto una bella pedalata, ma credo che qua sia un po' bagnomaria tra i fuggitivi e tra il gruppo, che tra poco vedremo chiaramente con la puntualità di Rodella, perché sono veramente fantastici come sanno anche interpretare questi operatori la gara, sanno leggerla esattamente quando sta per succedere qualcosa. Sembra di essere in corsa qui all'interno. Beh, dal tonde ragazzi, se Rodella e Rodella c'è un perché. Qui c'è lo strappo appunto sulle conche, insomma, questa giornata spettacolare, poi è arrivata anche un po' di arietta fredda. Diciamo che il campione della montagna se l'ha giudicato un'altra volta proprio a Giuseppe Schera. E poi Quartucci, appunto, quando ha tentato l'assolo, però... Poi io vedo una cosa strana, Caratina, io vedo Alessandro Verre che sta tirando alla morte, con dietro tutti quanti quelli della Jumbo-Visma, gatti, ma se c'è davanti uno della colpa perché tira così alla morte? Ricordiamo Alessandro Verre, potentino, ha vinto il campionato italiano nel 2017 come allievo di Cicco Cross, quindi il Van der Poel odierno, però sta tirando la morte e non fa neanche fatica, gli altri sono al gancio, però sta sprecando tanto e sta facendo vicinare. Forse voleva andare per campi. E ho capito, però mi pare veramente una, diciamo così, non una scelta giusta, anche perché poi vediamo che Ausman tira pochissimo ed è già al gancio. Sì, effettivamente Verre ha voluto tentare anche lui di mettersi in evidenza. E vabbè, ma riporta il gruppone davanti? Riporta il gruppo davanti, ma evidentemente dall'ammiraglia eseguiva gli ordini. Ah, ho capito, ma anche qua c'hanno le radioline? Dobbiamo ricordarci, però sappiamo benissimo che anche i direttori sportivi con un colpo di clacson... Ma il pizzino ha preso un pizzino, però onestamente vedo che è una cosa che non è usuale vedere uno dello stesso team. Perché Quartucci comunque insomma era anche potenzialmente temibile, e anche perché ricordiamoci che se l'atleta in fuga va via qui può anche arrivare da solo. Quartucci viene ripreso, però continua a tirare. Eh, aveva voglia... Però continua a tirare, e guardiamo la faccia, perché Verre è un ciclocrossista, fuori soglia sa esattamente cos'è, non sta facendo fatica, ha osman di dietro, c'è la lingua di fuori, ma non perché non ne ha, perché proprio perché non ne ha più, non è che sta recitando, non credo che questi livelli recitino. Veramente sta andando, sta facendo una trenata da 60 all'ora. Eh, evidentemente questi erano gli ordini dall'ammiraglia. Sono i misteri del ciclismo, come i misteri sono queste terre, carattina. Perché tu, e a te te la... mi posso permettere questa domanda a bruciapelo, quante belle cose nasconde questo territorio? Beh, allora innanzitutto abbiamo visto tanti olivi, perché si comincia a scoprire anche il mondo dell'olio, degli olivi anche nelle terre trevigiane, che non era particolarmente usuale. E insomma queste terre sono baciate dalla fortuna, proprio per il mondo anche del prosecco, il mondo del vitivinicolo, e insomma delle coltivazioni. I sentieri cicloturistici, che vanno a visitare anche delle chiese, sono memorabili. Sì, poi sono territori che si prestano moltissimo anche alla scoperta di zone, che altrimenti in macchina non si potrebbero raggiungere. Quindi le mountain bike, le gravel. Da Cordiniano, dall'inizio delle conche, c'è la salita dei Carbonai, che porta addirittura al consiglio. Per cui insomma, è un modo anche per scoprire dei nostri territori, che altrimenti, chiusi in uno stadio, benché tu sia nato calciatore, chiusi in uno stadio non si potrebbero scoprire, perché si cammina, si passa attraverso dei tratturi, chiamiamoli così, o dei borghi a volte anche sconosciuti. Ricordiamo che Cordiniano comunque ha una presenza, è un sito paleoveneto, perché insomma, la presenza dei paleoveneti che si estende da questa zona di Cordiniano sino a Vittorio Veneto, dove c'è il Monte Altare, dove tuttora ci sono delle scoperte archeologiche che molti non conoscono. Complimenti Tina. Anzi, i paleoveneti in questi ultimi anni hanno cambiato nome e vengono definiti gli antichi veneti. Antichi veneti. Dall'antichi veneti al medioevo di certi borghi, al rinascimento, come in questo caso vediamo proprio la pedalata del grandissimo, oramai possiamo dire, Agiuso Paschera, come si dice? Peschera. Peschera. Agiuso Paschera, ecco, che si è liberato del gruppo proprio sul Gran Premio della Montagna, tipo la Cipressa, è andato via alla grande, vediamo come sta anche patendo tanto Maluberhan e Noc, quindi è anche multiraziale questa gara e ce l'auguriamo che sia sempre di più, insieme a tanti abbiamo visto bene anche Ginestra Lorenzo, Tronco, Paretto, Verre, è Agiuso che se ne sta andando, approfittando di questi 20 secondi, 15 secondi che potrebbero dargli la vittoria certa, perché qua io penso che quel motore là non ce l'abbia nessuno di questi qua. No, 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 assolutamente, il ragazzo è in forma, ricordiamo che arriva fuori da una corsa a tappe con i professionisti, perché insomma quando esci da una corsa a tappe con i professionisti hai un ritmo incredibile nelle gambe e nulla ti può fermare. Mamma mia che gara, qua davanti abbiamo un po' quelli che dovranno forse, tra virgolette lo vedremo accontentarsi di un piazzamento, abbiamo Paretto, Rouget, Elemose, Esman, Pietro Bon, poi abbiamo anche Parravalo, Zavanini, Ginestra, alcuni italiani ci sono. Sì, beh, insomma, c'è Piero Bon che si sta mettendo in evidenza in queste gare. Cycling Team Friuli. Che in questi ultimi anni ha fatto un salto di qualità incredibile creando una scuola di ciclismo e soprattutto scoprendo anche atleti. Che pedalata, che pedalata, ma questo qua va via come un cronome ragazzi, 18 anni. Guarda la pedalata e dimmi se non ti ricorda il re di Navarra, per certi aspetti. Un fisico anche bello importante. Sì, sì, qui è un po' scomposto giustamente, ma poi negli anni, ricordiamo che questo ragazzo ha 18 anni, non ha mai corso fuori dalla Spagna se no in quest'ultimo mese, è stato messo, piazzato, tra virgolette, per questo mezzo anno al Team Colpac e ad agosto passerà professionista con il UE Team con un contratto di 5 anni. Però, non capisco e non riuscirò mai a capire la sparata di Alessandro Verre, perdonatemi, oramai nelle retrovie è avvantaggiato così Esma Michael della Jumbo Visma che è stato a ruota fino a che ha potuto e adesso se la sta giocando per un piazzamento. E chissà che non venga raggiunto questo fenomeno il quale oramai ci ha dato dimostrazione di avere intanto un passo eccezionale. Questo è da cronome come passo. Sì, perché è riuscito a mantenere quei pochi secondi da solo, in pianura sappiamo benissimo che se alle spalle un gruppetto anche di 10-12 corridori riesce ad organizzarsi lo può andare a prendere benissimo. Lui è riuscito ad andare più forte del gruppo dietro, a mantenere quel risicato vantaggio e poi sullo strappetto finale di solito è lì che si vince Villa di Villa. Siamo già nelle fasi conclusive, si gira ma non ce n'è bisogno, in questi casi anzi non bisogna mai girarsi, devi andare dritto con la testa e guardare soltanto se arriva a testa bassa e pedalare perché quando ci si gira non va bene, a parte che è un margine di vantaggio di 20 secondi. Qui c'è anche un po' di vento contro, lui ha avuto il vento contro nel finale ma è riuscito a battere anche il vento. La paura poi dopo, io credo che sia la paura che anche se sono a 200 metri e ci vanno a 300 all'ora. Con il famoso fiatto sul collo. Non sei mai contento e quindi se mi puoi dire sei aggredito da vicino ma ormai manca veramente poco. Ecco qui inizia il tratto finale e insomma diciamo che ha la vittoria in tasca anche se qualche volta negli anni il bel vedere si è perso negli ultimi 10 metri. Eh sì, però qua sono talmente lontani che potrebbe addirittura replicare la vittoria di Jaroslav Popovic il quale è stato un grandissimo e tu lo ricordi meglio di tutti. Eh sì, ha vinto esattamente nel 2001, viva il bel vedere e poi il mondiale. Eh sì, proprio vero, un grande interprete. Battistella, ricordiamolo, che nel 2019 ha vinto da solo il bel vedere e poi ha vinto il mondiale. Bene, adesso andiamo ad inneggiare sua maestà a Iuso Peschera-Juan che va a vincere questa 82esima edizione del bel vedere. La prima volta di uno spagnolo. In seconda posizione vediamo se stanno giocando in volata Pitocchi e Balmer, ma è Pitocchi che va a vincere su Balmer. Nella volata del quarto posto in poi abbiamo Paret, Raugel, Helemos, Hesman che in pratica beffa un po' Alessandro Verre, Pietro Bo, Poi abbiamo Malouaber, Enoch, Parravano, Zambanini e Ginestra. Quindi sono un po' il componimento, intanto bel replay per il catalano. Beh, insomma, la gara che non si smentisce mai. No, assolutamente. È la tipica vittoria del bel vedere questa. Tipica vittoria del bel vedere. Io ringrazio te Carattina, ringrazio gli organizzatori in primis. Kiev perché hanno messo in piedi qualcosa di importante. Una gara da sotto tutti i punti di vista perfetta. Impariamo da coloro che ci mettono sì, è vero le risorse, il coraggio, la voglia di tornare ad essere protagonisti nel ciclismo. Intanto le interviste. Sono molto contento e voglio ringraziare alla squadra perché oggi hanno fatto un lavoro incredibile. e grazie a loro abbiamo potuto vincere. Benissimo Carattina, è sul podio, chiaramente, di questa giornata di festa. Giornata di ciclismo con Ayuso, Potocchi e Balmer in terza posizione. Siamo ai saluti finali. Carattina, abbiamo già detto, ringraziamo gli organizzatori. Perché in questo momento organizzare non è semplice, ma organizzare in questo momento è vitale per dare coraggio a tutti gli altri che sono un po' titubanti. Assolutamente, è un invito a fare le gare. Ci mancano purtroppo le gare per le categorie minori, esordienti, allievi, qualcuna degli junior, ma l'invito è datevi da fare e non permettete di perdere dei ragazzi. Grazie anche a Cordiano Dagnoni che la sua presenza è importante in questi momenti qua, perché quando non ce n'è bisogna farsi vedere. Grazie Cordiano, il nostro Presidente federale. Grazie Tina e quindi di nuovo in studio con l'amico Gianluca Giardini. Bellissima gara, grazie alla regia per avercela mandata in onda. Mi viene da fare un'analogia, intanto Gioan Aiuso ha vinto senza problemi. Abbiamo visto le immagini chiarissime, altra categoria. Altra categoria. Però mi viene in mente che tu ne sai più di me e ne sai più di tutti. Mi viene in mente Popovic, che è lui che ha fatto la doppietta Piva e Belvedere. Io nel 2000 scoprì Jaroslav proprio a seguito di immagini che mi mandò il mitico Rodella. Io lavoravo per una tv privata a Bologna e mi mandò queste immagini. Questo ragazzo della Palazzago, esile, che vinse, poi scoprì che aveva solo 20 anni, non 19 come Aiuso, ma 20. Fece questa doppietta e ritengo che il Gio del Belvedere sia tra l'altro una delle corse più difficili e anche dure del momento. Del momento, perché in questi mesi di aprile, i 15-20 giorni, erano tutte le gare più belle, il Paglio del Recciotto, che purtroppo per il Covid non si terrà, perché non si tiene il Paglio. Erano le corse più interessanti, Piva e compagnia cantante. Scoprì questo ragazzino, quell'anno vinse quasi una ventina di gare. ebbe il piacere di commentare in diretta i campionati del mondo a Lisbona nell'anno successivo, il 2001, si aggiudicò il Mondiale, ma tante altre corse. È stato veramente un grande corridore. Sono anche amico con gli Aroslav e ogni tanto ci siamo anche. Noi l'abbiamo avuto tante volte in studio qua, anche quando correva, grazie a Fabio Perego, anche quando ha smesso. È un corridore che non ha fatto quello che ha fatto da dilettante e da professionista, però è stato un gigante nel mondo professionistico. Io l'ho definito in Telecronica il migliore dilettante degli ultimi 20 anni, qualche anno fa, quando lui ancora era agli inizi della carriera professionistica, però aveva promesso tanto, lui da professionista si è un po' accontentato. Comunque, un podio al Giro d'Italia, vittoria di tappa al Tour de France e una decina di anni dal luogotenente di capitani importantissimi ed era sempre uno degli ultimi a mollare, forse lui dopo si è un po' accontentato. Ma diciamo che è stato un gran bel soldato, insomma. Beh, non male, insomma una carriera che se non avesse avuto cotanto tra i dilettanti sarebbe stata un'ottima carriera. Ecco, adesso io con te voglio parlare un po' dell'ipocrisia del ciclismo. Potrei dire due parole, perché questo ragazzino spagnolo che ha dominato il weekend... Sì, ma volevo collegarmi anche a questo. Perché mi ha impressionato veramente. Lui ha vinto molto, adesso tutti quanti hanno l'incubo, come lo avrà anche Joan, di queste nuove norme che credo che siano davvero ipocrite. Abbiamo visto anche al Fiandre, butti via la borraccia, che è sempre stato qualcosa di ambito del campione per quanto riguarda l'appassionato. Ecco, per assurdo potremmo privarci di queste belle vittorie per una stupidaggine del genere. Beh, allora, riguardo questo regolamento mi sembra che lo abbiano un po' buttato lì senza sentire tanto la parte più importante che sono i corridori. Non li hanno secondo me interpellati, perché partendo dalla posizione aerodinamica in discesa, io non ho mai visto una caduta procurata da questo, non ho mai visto un ragazzino tra gli allievi cadere. L'ho visto fare, ma non ho mai visto uno avere un problema. Addirittura tra i cicloamatori, che siamo la categoria, dico, siamo più incapaci ed ignoranti in bicicletta, non ho mai sentito di un incidente dovuto a questa posizione. A parte quando vedo qualcuno dei miei amici che la fa, gli dico, ma dove vai? Dove vai, certo. E quindi, ma tra i giovani impennano, derappa, non ne fanno di ogni. Cioè, non è pericolosa fatta da loro, è pericolosa se la facciamo io e te. Beh, certo. Quindi, mi sembra un po' esagerato. Per quello che riguarda i rifiuti, sacrosanto, hanno iniziato con le Gran Fondo, che erano cartacce ovunque. Quelle avevano mille persone, logico. Cartacce ovunque, però hanno messo le zone, le green zone, dove uno deve buttare i suoi rifiuti. Se la tiene in tasca intera, una barretta non può tenere solo la carta dopo. Però la borraccia, che è un cimelio, gente che parte da casa alla ricerca di una borraccia, non va bene buttarla in un bosco e li sanzionerei, però la prima infrazione andrei con una sanzione amministrativa, insomma, 500 euro di multa, 1000 euro, che per una borraccia comincia a essere caruccia. La squalifica mi sembra una cosa per un atto grave, che mette comunque la sicurezza in pericolo. Per l'ecologia, credo che una bella sanzione debba servire poi. Il buon senso, anche tante volte vedi che sono in gruppo, buttano questa borraccia, poi se è pericolosissima, tante volte sono cascati, bobo, grazie a questo. Però per il discorso legato al green, all'ecologia, credo che, non è che dobbiamo salvare il pianeta, non va bene una borraccia in un bosco, ma in un centro abitato. Non so, è sempre colpa del ciclista. Non va bene il centro abitato, non va bene buttarle, però la squalifica mi sembra l'ergastolo per uno che ruba una mela. Gianluca, è sempre il suo discorso, il ciclista deve sempre pagare, il doping deve pagare il ciclista. Ho fatto un po' l'escorso della storia del doping, nasce addirittura dalle prime olimpiadi, addirittura nella Magna Grecia, ma poi anche nel 36, cioè si è sempre fatto uso, addirittura erano dei fighi quelli che lo facevano. Ma comunque oggi sarebbe sufficiente rivedere velocemente la norma e dire prima infrazione un'ammenda, seconda infrazione eventualmente la squalifica. Allora dico ai ciclisti, nel gruppo non fate le puzzette perché se no mi fate fuori l'ozono. E basta. E' un nome esagerato, sono passate di là, da una cosa giustissima sono riusciti a creare un problema. Quindi mai più puzzette, tanto per ridere, per buttarla come si dice un po' nel ridanciano, perché chiaramente anche io ho visto delle cose che non mi sono piaciute, tra poco andremo anche in altri discorsi. Ma se non ti dispiace, andrei anche col Memorial Mantovani Elite Under 23 e qua ci sono cinque formazioni continental, poi vorrei capire da te qual è la differenza, quindi mi farei un cappello su Joan Artuso e assolutamente su Riccardo Lucca. Vediamo sto finale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. l'appoggio totale incondizionato della famiglia Mantovani di Moa Sport e di Nalini che ha raccolto come sempre, come vuole la tradizione della vigilia di Pasqua, una adesione davvero da tutti gli angoli della penisola e da tutti i fronti. 204 gli atleti ai nostri di partenza, 32 gruppi sportivi, 4 formazioni straniere e ricordiamo la presenza della statunitense ed è una vera e propria novità per questa corsa, la Foundation CBC, i transalpini di Esamprovanse, i rossocrociati del Velo Club Mendrisio e la nazionale russa. 5 formazioni continental a dare ancora più prestigio e ad alzare il livello tecnico complessivo della manifestazione. Una corsa da seguire su una distanza davvero importante, 171 chilometri che per Elite Under 23 sono davvero un chilometraggio molto molto importante. Selezione che sicuramente sarà determinante anche per quanto riguarda le condizioni meteo, su Casteldario splende il sole, temperature tutto sommato gradevoli per correre ma il vento soffia deciso e persistente sulle strade che gli atleti dovranno percorrere per tutto il pomeriggio sportivo. Ai nastri di partenza dicevamo oltre 200 atleti ma il vento e la partenza molto vivace dalle prime pedalate fa la differenza e subito a spingere forte gli atleti ne viene fuori un primo drappello di oltre 20 unità che davanti cercano di fare subito la differenza. I ventagli e chiaramente la selezione con il vento e l'andatura molto elevata proiettano in avanti 25 atleti, 13 gli immediati contrattaccanti ad inseguire ma proprio questi contrattaccanti nel corso del quinto giro si fanno guardinghi e si riportano sulla testa della corsa. Sembra davvero fra questi il clou, il cuore della corsa perché proprio a comporre la testa ci sono i migliori atleti capaci di giocarsi il successo nel finale di gara. Gara che nel 2019 venne conquistata dal veronese Attilio Viviani con i colori della BS Arvedi Cycling che vede emergere in maniera particolare due atleti Riccardo Lucca e Riccardo Verza che sono capaci nonostante il continuo vento contrario e a favore sono capaci di fare la differenza. Arrivano a guadagnare nei confronti degli immediati inseguitori sino a 1 minuto e 27 secondi di vantaggio. Sembra assolutamente fatta e sembrano essere in grado entrambi andando d'accordo di poter gestire questo vantaggio sino alla conclusione ma il gruppo soprattutto negli ultimi 5 giri non demorde, non si dà per vinto. Prima la spinta molto forte della Petroli Firenze Opla Don Camillo poi arrivano con le loro unità d'Armanforte la Colpa Gballan, il Velo Racing Palazzago ma anche la Iseo Serrature Rime Carnovali e si avvicinano pericolosamente alla coppia al comando. Pericolosamente al punto nei tre giri finali da dover gestire un passivo di soli 150 metri. sembra presagire un ritorno a ranghi compatti e una volata di gruppo ma la spinta, l'accordo, la forza, la tenacia di Lucca e di Verza riescono per la coppia al comando a far sì che arrivino a giocarsi sul filo di lana il successo nella prova odierna. Davvero sul filo di lana perché Lucca senza voltarsi entra nel rettifilo conclusivo tira diritto quel tanto che basta, questione di pochi metri se non meno e per il corridore della General Store SGB Fratelli Curia davvero un successo meritatissimo frutto di una tenacia, di una resistenza e di una visione di corsa davvero importanti. Il successo della formazione diretta da Giorgio Furlan viene completato dal secondo posto di Cristian Rocchetta, primo nella volata degli inseguitori che precede un Verza, un po' più stanco proprio nei chilometri conclusivi. Festa finale dunque per la General Store SGB Fratelli Curia che si prende l'oro e l'argento mentre alla Zalf Desiree Fior va il bronzo di giornata. Claudio Mantovani, una giornata sempre dai toni toccanti quando si tratta di ricordare Vincenzo, quando si tratta di mettere in campo un'organizzazione, quando si devono aprire le porte di un'azienda come la vostra a 32 formazioni, a 204 corridori, a 4 squadre straniere. Insomma davvero una grande giornata oggi. Purtroppo guarda, questo devo fare i complimenti, prima di tutti sono sempre i corridori e sono andati in battaglia subito e si è visto perché dopo 3-4 giri a causa di vento purtroppo una parte dei corridori hanno dovuto fermarsi. però bisogna ringraziare un po' tutti i miei collaboratori che sono loro e poi sono tutti i corridori anche che fanno le cose importanti da vedere. Il segnale forte che avete voluto dare anche in questo periodo un po' delicato è esserci, organizzare nei dovuti modi, grazie alla Ceresarese sotto l'aspetto tecnico, all'amministrazione comunale, un lavoro di squadra ancora una volta vincente. Ed è quello che voglio ringraziare, la Ceresarese, che è sempre al nostro fianco che per qualsiasi cosa che noi vogliamo ci mettiamo nelle loro mani. Devono ringraziare perché realmente fanno degli ottimi risultati e delle ultime cose. Ringrazio ancora tutto il Simone Pezzini e tutti i suoi collaboratori. Valentina Bellini, assessore allo sport qui a Casteldario, una giornata di sport ma una giornata davvero particolare quando si tratta di ricordare cittadini illustri come Vincenzo Mantovani, la famiglia Mantovani e la sua famiglia, una realtà imprenditoriale importante come Moa Sport, quindi tutti gli ingredienti davvero al posto giusto per una giornata davvero che vi porta in alto nel mondo del pedale e non solo. Sì, per noi è sempre un piacere dare la possibilità a organizzare eventi di questo calibro. Siamo onorati di avere, come ha detto lei, una azienda, una realtà così forte nel nostro paese e l'unica cosa che possiamo fare come amministrazione è sopportare questi eventi e soprattutto lo sport e visto anche il momento in cui ci troviamo benvenga, benvenga perché è un segno che ci siamo, che lo sport sta andando avanti e deve essere così. Riccardo Luca, intanto complimenti perché ci hai fatto patire, soffrire ma quando si soffre di sport è sempre molto molto bello. Complimenti perché l'ardire, l'osare ti hanno premiato quando sembrava praticamente ormai scontato il riassorbimento della fuga tua e di Riccardo Verza. Grazie, abbiamo partito anche noi, anche molto, gli ultimi 50 chilometri in due e tutto si è deciso qui in finale sull'ultimo rettilineo. Anche Rocchetta da dietro con il rientro del gruppo ha fatto secondo, quindi un ottimo lavoro di tutta la squadra. C'è stato un momento in cui hai pensato ci riprendo, non è andata, ci riprovo domani e c'è stato un momento in cui invece ci hai creduto per dire no, la corsa oggi deve essere mia. All'inizio appena partiti, sinceramente quando non riuscivamo a superare i 20 secondi di vantaggio, dietro vedevo qualche squadra organizzata, ho detto e glielo ho detto anche a Riccardo, ho detto forse abbiamo fatto una cavolata. Però dopo, quando dietro sono persi un attimo di organizzazione, hanno iniziato a fare qualche scatto, siamo subito saliti al minuto, fino anche a un minuto e un quarto, e lì ho capito che saremmo arrivati. Purtroppo non si corre tantissimo e ogni corsa diventa un mondiale. Sì, adesso ogni corsa vale uno, però quando sono corse anche di un certo livello, con le Continental possiamo farle nazionali, sicuramente c'è un buon valore ad ogni partenza. E grazie anche a Gallesi per queste belle immagini, per il Memorial Mantovani, due gare che hanno una storia. Due vincitori, Riccardo Lucca, ex Zalf, quindi Nuova Vita, e per quanto riguarda le formazioni Elite, Under 23 e 5 Continental, è un po' come dire giochiamo la serie B e C? Io credo che le buone squadre Under 23 siano paragonabili alle Continental, perché nelle Continental non ci sono i campioni di 27 anni, ci sono bravi corridori giovani o corridori discreti 25 anni, quindi diciamo che non è una lotta impari, può essere equilibrata, forse un po' più di organizzazione, forse ragazzi che non vanno più a scuola, però diciamo che può essere. Mi piace il discorso delle formazioni giovanili dei team Pro Tour, tipo Cubeca per dirne uno, quello è una cosa che mi piace, comunque bisogna che noi italiani ci adeguiamo a quello che è il resto d'Europa, dobbiamo andare in quella direzione e quindi deve essere un dilettantismo un po' diverso da quello che abbiamo amato tanto noi, collegare il sabato, il martedì, ma è un'altra cosa. C'è un aiuto, mi pare, che abbia 18 anni. E a occhio parrebbe un trentenne maturo, perché corre in una maniera, intanto agevolato dalla sua forza, però con freddezza, esce quando è il momento, si fa i suoi ultimi chilometri in solitaria, per avere, compierà quest'anno 19 anni, per avere quell'età dimostra di avere dei numeri veramente incredibili, perché sono stati, c'erano avversari interessanti, se vediamo al bel vedere, c'erano mi pare uno o due italiani nei primi dieci, il resto tutti stranieri, quindi un lotto internazionale. Lui li ha staccati senza problemi, è arrivato sul traguardo. Il giorno precedente al Piva aveva vinto un'altra volta per distacco, un po' meno abbondante, però dietro aveva Pupio e Colnaghi, che sono due tra i nostri migliori azzuri. Anzi, approfitto per fare un ben ritrovato. Luca Colnaghi, dopo le sue vicissitudini, è riuscito a chiarire tutto ed è un talento che dobbiamo curare. Quindi è un ragazzo che ha dimostrato di avere la stoffa per proseguire. Venempur, Pogacar, Bernal, fa parte di quella categoria e credo che nei prossimi anni lotterà con loro, tra non molti anni, tra l'altro. Io rimango incantato perché tu sei tutto. No, sei preparatissimo, io dico sempre qua in questa televisione, poi sono molto tecnici i nostri telespettatori. Più di noi. Ma sì, ma poi ti fanno... E dico sempre, io purtroppo, per fortuna, non devo sapere tutto perché ci mancherebbe altro. Siamo già tutti commissari tecnici, ci mancherebbe di fare ancora... Però volevo fare un'analisi veloce sul Fiandre. Intanto mi dispiace, tanto che sia stata anche squalificata la Borghesi perché, insomma, questa borraccia... Eh, torniamo sul discorso di prima. Vabbè, vabbè. Asgrae vince su Van Der Poel. Io dico, ma questo qua è un fenomeno Van Der Poel. Ed è oramai riconosciuto dal mondo come un'arte e via. Ma che cacchio di volata ha fatto Van Der Poel? Io questo qua non provo, non l'ho capito, l'ho guardata tutta. Dico, se lo mangia, ha speso molto troppo, è troppo, diciamo, di testa, ho troppo di cuore. Io ho... Scusami, mi sembra che gli ultimi chilometri li faccia alla Chiappucci. Allora, lui non è molto astuto, d'altra parte che la natura sarebbe stata troppo generosa. Già gli ha dotato di un fisico eccezionale. Se gli avesse dato anche un acume sopraffino sarebbe un po' troppo. Lui spende tanto e ha anche un modo di spendere molto appariscente. Scatti che a 50 dall'arrivo pare che ci sia traguardo dopo la curva. E lì deve un po' registrare perché non ha avversari come me. Avversari che vanno quanto lui, perché alla Philippe, Van Aert, Asgren stavolta, ci sono avversari al suo pari o quasi. Quindi lui non è molto portato ad ascoltare. Asgren, oltretutto, c'è una certa età. Lui non è molto portato ad ascoltare i consigli dell'ammiraglia. Fa un po' come gli pare. Mi dicono che sia un po' testone, tra virgolette. Quindi molto caparbio. Ma però... Asgren, invece, vive un momento di grazia. Perché non ci dimentichiamo della vittoria che ha ottenuto la settimana prima. Ha fatto 40 chilometri in solitaria. Quando l'hanno ripreso, se n'è stato a ruota 10 chilometri. Poi se n'è riandato da solo e anche lì ha battuto a fiori di campioni. Quindi non è stata... Vuol dire avere tanto motore, vuol dire avere tanto. E io mi sono accorto sul Pattenberg, l'ultimo passaggio, quando dalla seconda posizione, Van Der Poel ha tentato questa accelerazione da seduto sul pavè, nel tratto ripido come fa di solito. E i cronisti si sono tutti un po' emozionati. Parte, parte, parte. Io ho detto, ma secondo me non è riuscito nemmeno a superarlo. Quando dalla camera fissa si è passati a quella nella curva, si è visto che lui gli è arrivato al massimo a mezza bicicletta. Quindi non è riuscito nemmeno a rimontarlo. E ho pensato, Asgren ne ha di più. Anche se aveva lavorato per Alaphilippe precedentemente. Però ne ha di più, ma questo è molto più veloce. Ne ha di più, ma è più veloce. Alla fine averne di più. E mi è venuta in mente la tragedia degli ultimi 200 metri del Mondiale di Trentin, che più forte, più veloce, più tutto, poi Pedersen ne aveva di più negli ultimi 50 metri. Lo ha dimostrato. Quindi Asgren ha vinto. Van Der Poel, bravo, ha fatto secondo. E non ci rimentichiamo i battuti dietro. Van Avermaet, il vincitore della Sanremo, Stuyven. Alaphilippe e Van Aert dietro. Van Marche, tutti i più grandi campioni. Integrare uno sfigatissimo Trentin, perché veramente quest'anno... Molto sfortunato, molto sfortunato. Perché ne ha. Però in bicicletta fa parte del gioco, in quelle corse lì fa parte del gioco. La Elenia Lazzaro dice, ma anche Pontoni, i maghi del ciclo cross, che non si buca per caso. Adesso voglio dire... Giaccarlo Ferretti mi diceva sempre che il campione non cade, non fora, non s'ammala di solito. E quindi un fondo di verità c'è, però su quei percorsi forare non è difficile. E poi comunque si può forare a 50 dall'arrivo invece che a 20. Quindi con possibilità di rientrare facilmente a ruote l'ammiraglia... E lì per i 20 secondi è finito. No, beh, lì c'era il vuoto. La prima macchina era a tre minuti, perché c'erano dieci gruppi. E quindi purtroppo per Matteo non c'è stato verso. Un bel piazzamento avrebbe ottenuto sicuramente, perché andava benino, ma secondo me non poteva arrivare nei primi due. Bene, guarda, io adesso manderei gli internazionali d'Italia, XIO Mountain Bike, magari veramente internazionale, Capoliveri, ormai un monumento, un po' come la Roubaix, un po' come il Fiandre nel Mountain Bike. Ringraziamo Alcamedia, guardatela tutta perché veramente merita tantissimo. Isola d'Elba, Capolivri. E questo è lo scenario della seconda tappa degli internazionali d'Italia Series. Ben ritrovati da Luca Casali ed Enrico Martello, vice commissario tecnico della Nazionale Italiana di Mountain Bike. Buonasera a tutti. Capoliveri, siamo dunque sull'isola d'Elba. Queste sono le miniere, perché in questa zona è stato tracciato questo anello così bello, così spettacolare, che tanto è piaciuto ai biker. Enrico? Sì, è un tracciato molto veloce, con un fondo veramente che lascia molto correre le ruote della bicicletta e che però ha una caratteristica importante che ha poco grip, quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto sulla guida della bici, soprattutto sulla conduzione dell'anteriore. E allora, due giorni particolari, il primo con tanto vento, ma poi la mattina, l'alba della gara, delle condizioni straordinarie. Tutto perfetto, senza vento, temperatura cadevole per gareggiare, anche se poi nel pomeriggio gli uomini di vita hanno trovato anche un po' di caldo. Sì, la situazione meteo è andata migliorando, soprattutto per quello che riguarda le condizioni come in città del vento. Questo è molto importante, perché comunque è un tracciato che è molto aperto, quindi non è ovviamente in area boschiva, siamo sul mare e questo ha un'importanza su quello che è le fasi di volo, come in questo salto. E allora andiamo a scoprire le caratteristiche e i segreti di questo tracciato con l'uomo mountain bike, lui è mister mountain bike, Nino Schurter, la leggenda di questo sport. È l'uomo più titolato al mondo, ha vinto tutto nella storia della mountain bike, è l'uomo, è la mountain bike. Qui lo vediamo con la maglia di campione europeo uscente e questa è la parte più scorrevole, Enrico, del tracciato. Sì, esatto. Sono molte parti molto flow, come si dice in gergo, dove comunque c'è un'ottima velocità, ma richiede una precisione di guida non indifferente su tutti i cambi di direzione e la distribuzione proprio dei pesi per quello che riguarda la fluidità di guida. Scorci così belli, questo è uno dei tanti drop che si trovano lungo il percorso con uno scenario da favola sullo sfondo. Zona più tecnica, questa tutta racchiusa di fatto nei 50 metri di disivello, qui davvero bisogna trovare il ritmo giusto per non sbagliare e se si sbaglia è facile cadere. Allora, sì, esatto. È l'ultima parte del tracciato, è la parte più tecnica, più ripida, dove si inizia appunto con questo drop molto spettacolare, che poi si mette in un canalone molto ripido con appunto poco grip impicchiata sul road guard del finale per poi arrivare alla fine del percorso. Prima gara di giornata, quella riservata agli juniors, ci si attendeva tanto dagli azzurri e soprattutto dalle campioni italiane Matteo Sifredi ma anche da Filippo Agostinacchio. Beh, non sono stati loro gli assoluti protagonisti perché ci si è messo di mezzo uno svizzero molto forte, uno svizzero della squadra nazionale già protagonista ai campionati europei e anche perché poi queste sono le occasioni nelle quali si possono trovare bello sluomo su Filippo Agostinacchio e quello lì con il numero 3. Poi Marco Bettio con il 9 e il campione italiano e quello lì in fondo Matteo Sifredi. I ragazzi italiani hanno dimostrato di avere un'ottima condizione soprattutto in crescita e questo ovviamente fa ben sperare per il movimento è ovvio che la scuola svizzera è sempre una scuola di riferimento tanto è vero che il primo non è a caso quello che è in testa. Ed eccolo qui in queste immagini Nils Habersold è lui che va a dominare e vincere questa prima gara della seconda tappa degli internazionali davanti a Filippo Agostinacchio Marco Bettio qui siamo proprio sul podio con loro due Nicola Semilesi qui dal quarto posto e poi il primo francese Charle Marchandise. E questa è la gioia di Kate Courtney una delle grandi protagonisti annunciate della prova al femminile in body di campionessa italiana Eva Lechner questa è la californiana andiamo a sentirla nel pre-gara. è una grande sfida sono qui per la mia prima prova stagionale in un posto davvero carino davvero particolare così bello il tracciato mi piace molto sarà una sfida anche gareggiare su questo percorso con tanti salti così spettacolare io sono qui per mettermi alla prova per trovare la giusta condizione in questa stagione che inizia proprio qui per me in Italia in Europa sono appena arrivata ci saranno tanti mesi tanto tanti giorni da stare per arrivare poi alle gare più importanti il focus su Eva Lechner e poi le ragazze del Santa Cruz con Seivald ma soprattutto con Martina Berta che bel primo piano questo su Kate Courner Enrico ci si aspetta tanto in questa gara da Martina Berta si Martina comunque sta facendo una programmazione una preparazione in vista poi per gli appuntamenti più importanti che sono da qua un mese e quindi queste sono gare diciamo di avvicinamento alla Coppa del Mondo e che comunque non è lontana siamo ad aprile ed è insomma è tra un mesetto quindi è un buon test per vedere le condizioni delle ragazze e allora Berta protagonista anche ad Andorra questo è il momento dello start con il mare dell'isola d'Elba sullo sfondo parte subito molto molto forte la vediamo alla nostra sinistra Kate Courtney con il numero 9 qui siamo all'uscita della zona di lancio Berta anche davanti le immagini dall'alto il mare dell'isola d'Elba temperatura piuttosto gradevole 15-16 gradi in questa fase siamo all'ora di pranzo siamo a mezzogiorno prima parte e questo è proprio il lancio molto veloce Lechner che all'inizio sta davanti e qui si va subito in discesa con Kate Courtney che subito si mette davanti e fa capire che oggi dovranno fare tutti i conti con lei si esatto l'atleta di riferimento è Kate Courtney ma comunque non dimentichiamo che comunque la Boe la danese è in ottima crescita anche lei e ha dimostrato negli ultimi anni di essere molto competitiva ma Enrico c'è una grande Chiara Teocchi durante le prove del percorso è caduta si è fatta male ad un braccio ma oggi vuole essere protagonista siamo alla fine del primo giro Courtney già davanti sembra che possa prendere il volo che possa andarsene Teocchi passa in questo istante ma non sarà proprio così facile si esatto dopo la caduta di ieri che ha avuto sei punti su un braccio la Chiara ha dimostrato di avere un carattere eccezionale già dalla fine del lancio si è capito subito che insomma le condizioni delle atlete erano quelle che poi abbiamo visto per tutta la gara e quindi un plauso veramente a brava Chiara questo è lo slomo sulle due ragazze del team KTM qui torniamo invece con Teocchi e in salita con Courtney come si pedala su questi su questi strappi così secchi nei quali bisogna essere esplosivi ma esatto innanzitutto la tecnica in salita è molto importante quindi un abbassamento del baricentro per poi spingere il più forte possibile sui pedali e sicuramente avere il rapporto giusto e iniziare lo strappo con il rapporto giusto è fondamentale secondo giro la statunitense sempre davanti dietro arriva proprio in questo stante Chiara Teocchi subito tanto margine per Kate poi Chiara tenterà o perlomeno vuole tentare il riaggancio si anzi a un certo punto c'è riuscita lei veramente in salita ha dimostrato come si vede da queste immagini un passo veramente importante all'altezza della Kate poi comunque il braccio dovuto alla caduta ieri appunto le faceva un po' male e gli ultimi gli ultimi giri purtroppo ha molato un pelo però ha dimostrato di avere un'ottima condizione a dimostrazione di quanto è impegnativo questo tracciato proprio là sullo sfondo Kate che mette il piede a terra in uno dei passaggi più tecnici in salita e qui siamo con il drone per la parte la zona della partenza e dell'arrivo questo è un tornantino che sulla carta non sembrava così difficile poi con la terra così smossa in realtà nascondeva qualche insidia ecco altra nota tecnica importante tanta sabbia sì ovviamente con l'usura del passaggio e con la particolarità di questo terreno si è creato un fondo molto duro però con dei riporti di sabbia che fanno perdere l'aderenza soprattutto sull'anteriore e quindi le ragazze come tutti gli atleti devono stare molto molto attenti sulla guida e avere una guida molto pulita e questa è l'uscita della zona del diavolo in fondo alla discesa ripassiamo dal traguardo siamo al quarto dei sei giri cerca l'aerodinamica Kate Corte ma eccola lì chiara te occhi proprio quasi franco bollata ad un certo punto poi c'è stato il riaggancio e tutti abbiamo un po' sperato sì abbiamo tutti sperato comunque appunto come si diceva il problema che ha avuto ieri dopo la caduta sicuramente ha compromesso un po' però l'importante è la condizione che ha dimostrato la chiara per gli appuntamenti poi per il futuro Greta Seywald Eva Lechner l'abbiamo detto in partenza non era certo qui per gareggiare con l'obiettivo della vittoria lei arriva dalla stagione del cross l'obiettivo per lei sono i giochi olimpici di Tokyo e dunque si ricomincia con le gare Eva che è partita diciamo lentamente per i suoi livelli poi piano piano ha aperto il gas ha alzato il ritmo e alla fine la ritroveremo avanti in classifica ma sì esatto Eva poi ha un'esperienza incredibile e sa sicuramente ha dimostrato di saper preparare gli appuntamenti che contano quindi già la gara di oggi ha dimostrato una Eva Lechner in crescita rispetto agli ultimi appuntamenti ma questo è dovuto proprio a una preparazione mirata su quello che sarà poi il futuro di questa atleta Caroline Bo che è una danese con una forte tradizione in famiglia tutti i ciclisti stradisti le ha scelto la mountain bike 22 anni oggi è stata una delle grandi protagoniste terza di fatto per tutta la gara sì guarda la Caroline me la ricordo bene da junior ha sempre dimostrato un buon potenziale ma non si riusciva mai ad esprimere poi è migliorata sia fisicamente tantissimo che tecnicamente bisogna fargli veramente i complimenti perché è cambiata molto l'atleta e quello invece era il focus su Martina Berta oggi un pochino in ombra sì giornata non particolarmente brillante per Martina però sicuramente per il futuro si saprà rifare sono sicuro si torna in salita con Lechner ma subito in discesa nella parte finale con una scatenata Kate va verso la parte finale Chiara sempre dietro sì Chiara sempre dietro ovviamente quando ha visto che la Kate ha guadagnato quel gap che non si riusciva più tanto a colmare stringendo i denti è riuscita a gestire completamente la situazione e a fare una grandissima gap ancora nella parte tecnica queste ragazze Enrico quanto sono migliorate nel corso degli anni adesso c'è differenza tra maschi e femmine ma intanto andiamo al traguardo con Kate Curtin la sua gioia voleva vincere ieri quasi scherzando nel suo italiano ha detto ragazzi non sono qui per giocare lei oggi non ha giocato per niente no non ha giocato per niente come nessuno ha giocato e sono come si diceva dei test importanti per il futuro della stagione e questo è il podio con Courtney con l'Italia di Teocchi e con il terzo posto per Bo sì sono molto contenta ricomandata oggi sinceramente non me l'aspettavo molto ieri sono caduta e ho messo sei punti di sutura su un braccio e sinceramente stamattina ero anche indecisa se partire o meno poi ho detto proviamoci e ho cercato di fare una gara abbastanza intelligente stando sempre davanti il terzo giro ho ripreso Kate ci ho provato però poi gli ultimi due giri il braccio mi faceva veramente male mi ha costretto a fare anche qualche chicken line forse lì ho perso qualche secondo però sono comunque super contenta della mia prestazione e di come mi sento adesso Kate Curtin eccola qui oggi un percorso molto duro molto difficile io volevo fare una gara per trovare la mia condizione l'ho trovata mi sono impegnata ma ho fatto tanta fatica è stata una gara davvero interessante per il mio ritorno e questo è il podio con le migliori 5 la vestizione della maglia questa prova valeva anche come titolo di campionessa d'inverno di mountain bike che va alla statunitense alla californiana e questi sono i distacchi Enrico molto racchiuso il podio 47 secondi tra Courtney e Caroline Boe poi il gap e si fa importante con l'Eckner a 3.56 Berta a 4.58 si appunto come si diceva prima comunque sono comunque le prime gare di stagione è ovvio che comunque è una classifica importante con dei distacchi notevoli su un percorso comunque veloce dove i distacchi tendenzialmente sono un po' più difficili a darriere gli occhi lo sguardo del numero 1 Nino Schurter e questa è tutta la concentrazione del brasiliano Avanzini Maxim Marot e poi Luca Braidot non fortunato per non dire sfortunato ma sarebbe troppo in questa seconda prova Nino Schurter il sorriso di Mr. Mountain Bike sono qui per trovare le giuste sensazioni ho bisogno di gareggiare mi piace molto questo posto mi piace molto l'isola d'Elba il tracciato è molto tecnico è un tracciato nel quale io posso sicuramente far crescere la mia condizione abbiamo fatto tutta la pianificazione della stagione e poi è cambiato è cambiato un'altra volta e questo sicuramente ti costa un po' di energia ma direi che per aprire la forma è buona abbastanza buona e sono fiducioso di crescere ancora dentro la stagione per me è veramente speciale tornare a correre in Italia con questo bello aiuto dell'internazionale dell'Italia perché è una cosa che io sto già cercando da fare qualche mese fa ho già provato a fare altre gare in altre nazioni non sono riuscito a avere questo aiuto sicuramente non è una cosa facile per tutti linea di partenza chiamiamola così Enrico perché qui davvero le starre sono tutte pronte per darsi battaglia e beh sì abbiamo il numero uno del ranking in questo momento e l'atleta che è la storia della mountain bike peraltro Enrico l'ha dichiarato lui vuole mantenere questo status quindi vuole continuare ad essere il numero uno del ranking si parte subito molto forte lancio sempre complicato in partenza ma di fatto grazie anche all'ottima logistica nessun problema sì esatto in genere quando Enrico e Nino iniziano a correre la stagione non lo fanno mai per caso quindi sanno perfettamente di avere comunque una buona condizione e ovvio che poi andranno ad affinarla per arrivare le coppie del mondo al top però questi quando iniziano sanno di essere già competitivi una lunga lunga volata per prendere le posizioni che contano Nino Schurter la maglia di campione d'Europa subito lui davanti ha provato subito a fare il ritmo giusto quello che serve per mettere tra sé e gli avversari i secondi giusti che poi sono necessari per fare una gara con più tranquillità sì esattamente in più prendere delle discese su questo terreno davanti ti permette di avere una visibilità di un certo tipo quindi una visibilità libera e chi è dietro inizia a mangiare la polvere come si dice quindi anche ad avere visibilità molto pessima e non riesce a mettere le ruote dove vuole primo giro lo abbiamo visto anche in queste immagini dall'alto sembrava che Nino potesse già andarsene ma non è stato così perché Enrico è subito dietro e poi l'Italia con l'uomo che non ti aspetti ma sì diciamo che Mirko più o meno non te lo aspetti perché comunque ha già fatto un finale di stagione incredibile l'anno scorso lo aveva dimostrato di essere molto competitivo in campo internazionale ed è già partito quest'anno con quello che aveva lasciato l'anno scorso quindi un applauso a Mirko e mi raccomando speriamo che continui così e allora Schurter Avanzini e poi eccolo il nostro azzurro in terza posizione sì esatto si sta delineando il primo gruppetto come era un po' da previsione ma anche io parlando con qualcuno ho detto secondo me è una gara molto tirata molto veloce e con una possibile arrivo anche in una piccola volata e come si vede in queste immagini si sta dimostrando questo Mirko Tabacchi eccolo lì l'azzurro del team KTM insieme di fatto poi ad un certo punto è passato anche davanti perché diciamo rogareggiare con questi fenomeni non capita tutti i giorni e quando uno è lì davanti l'atleta è sempre campione e quindi ci prova esatto e poi è una cosa molto importante si vede appunto da questi atteggiamenti la personalità che ha un atleta quando davanti hai Nino Schurter e Avanzini e cerchi di mettere comunque la ruota davanti dimostri di avere personalità Enrico questo è un momento più tattico siamo al terzo giro con Nino che lascia passare Enrique come dire adesso tira tu perché io ci ho provato non ti ho staccato adesso vediamo se tu invece saprai fare di meglio Tabacchi sempre lì e poi da dietro che prova che ha fatto l'Under 23 Andrea Sevittone è partito molto forte è partito con il 37 si è agganciato a questo gruppetto ed è rimasto lì davanti con alcuni tra i migliori rider al mondo si esatto è un giovane e vedere un giovane che non ha paura e fazioni di questo tipo fa bene sperare per il futuro e invece continua un po' la sfortuna in questo inizio di stagione per Luca Braidot grande condizione per lui ma sul più bello gli cade la catena questo nel Rock Garden e quando lo vedremo tra poco potrebbe andare a giocarsi il podio perché no la vittoria con i due mostri sacri un guaio tecnico lo mette fuori dai giochi purtroppo queste cose che succedono è la mountain bike dispiace che che sia capitato a Luca anche perché comunque in questo momento sappiamo che ha una condizione incredibile e che se la può giocare tranquillamente per la prima posizione che immagini lasciamo che parlino sì è veramente una cartolina sul mare incredibile un posto unico poche gare al mondo riescono a dare questi colpi d'occhio andiamo in salita con il brasiliano con l'azzurro e con lo svizzero shooter quinto giro qui c'è sempre avanzini davanti il ritmo è leggermente diminuito si rifiata un pochino poi Enrico questi fenomeni aprono il gas e lo fanno davvero forte nella parte finale nell'ultimo giro si come dicevi tu prima come in tutte le gare c'è una fase diciamo non dico di stallo ma un aspetto un po' più tecnico soprattutto su gare veloci tipo questo e qui vediamo proprio questo discorso qua si è fermato adesso un trenino a tre con Maxime Marotte che chiude e e niente poi si avvicina al finale di gara e adesso il forse in ninino per mettere in difficoltà gli avversari ci prova qui sembra davvero che possa farcela Marotte in terza posizione e poi Scalu ma non è finita e non lo è per niente no non è per niente perché ovviamente questi questi atleti qua di questo livello qua prima di mollare un centimetro non ci pensano neanche quindi è una lotta metro dopo metro secondo dopo secondo Braillot fuori dai giochi il forcing è fatto restano in tre per andare a giocarsi la vittoria con Schurter davanti molto difficile superare su questo percorso parrebbe fatta per lui si parrebbe perché poi come ho appena detto prima non si molla un metro e Nino ha cercato di veramente di andare al massimo per cercare di mettere in difficoltà gli avversari ma poi poi vediamo perché nel finale di gara tutto può succedere e questa è la condizione di Luca Braillot che nonostante il guaio tecnico ha risuperato tre avversari cerca di adentare sul terzetto di testa ci riesce ma poi una nuova caruta di catena lo rimanda indietro in classifica purtroppo come come abbiamo detto prima sono cose che succedono è ovvio che quando succede due volte la stessa cosa è veramente sfortuna e qui Enrico il momento clou un momento decisivo perché Avanzini si riporta davanti difficile superare l'abbiamo detto poco fa ed è proprio così questa è la linea finale si preannuncia una volata che di fatto non ci sarà dopo questo stretto tornantino c'è tutto il tempo per Avanzini di alzare le braccia e il suo urro sul traguardo la dicono tutta sull'impegno sulla voglia sulla grinta che ha messo sia lui che Nino Schurter guardatelo proprio qui adesso volevano vincere esattamente Enrico ha fatto come si dice una grande cosa a livello tattico perché l'unica maniera per vincere ed era secondo era quella di entrare davanti in discesa e poi è riuscito a uscirne vincendo qualche istante per concederci l'intervista finale e questa è la gioia di Enrico Avanzini bellissima giornata per me è stata durissima ho cercato di trovare il mio ritmo a gara e avevo le gambe ma faceva tanta fatica oggi per girare credo che la forma sia abbastanza buona ma oggi sicuramente ho lottato tanto contro le mie sensazioni in gara poi alla fine è sempre una grande motivazione per me gareggiare contro Nino è sempre una grande opportunità correre contro lui e se hai l'opportunità di vincere deve prenderla Maxime Marotte terzo in una volata che di fatto non c'è mai stata ci racconta la sua gara dice molto dura d'altronde quando si lotta si combatte con Avanzini e con Schurter due grossi calibri per me stare con loro è già stato davvero importante il tracciato era molto complicato c'erano tanti salti c'erano tante zone tecniche ed era molto facile scivolare appena si usciva dalla giusta traiettoria con questa sabbia era un attimo commettere un errore io peraltro ho bisogno anche di lunghe salite per poter fare la differenza quindi lunghe salite non ce n'erano era invece necessario essere molto esplosivi come lo sono ad esempio sia Avanzini che Schurter Nino Schurter per il suo racconto di gara sono stato in testa sì all'inizio poi con Avanzini ci siamo dati il cambio Marotta era sempre lì dietro lasciato che lui andasse davanti ma lui essendo così esplosivo è riuscito a fare la differenza e alla fine così abbiamo terminato in questa posizione ho trovato il giusto feeling è stata davvero una cool race e questo è il podio i primi 5 con tutta la gioia del brasiliano questo è il leader Maxi Marot dell'Internazionale l'Italia Sirius per la classifica assoluta in maglia verde il leader degli under 23 che ancora Simone Avondetto che poi ha vinto la classifica proprio davanti a Vittone e questa invece è la classifica finale Enrico che bello sguardo Avanzini Schurter Marotte e poi Luca Braidotte da Scalu e siamo ai saluti siamo all'epirgo di questa tappa elbana così unica così affascinante speriamo di tornarci l'anno prossimo con queste immagini dell'Isola d'Elba grazie ad Enrico Martello appuntamento che si rinnova andiamo in montagna a Nalles per il 10 aprile sì il 10 aprile ormai è una classica che non ha bisogno di presentazioni finita la giornata di oggi bisogna fare veramente i complimenti agli organizzatori e alla Capoliveri by Quark appuntamento a sabato prossimo da Luca Casale ed Enrico Martello ciao alla prossima ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.